Inizio la mia conferenza, la mia lezione meno altisonante di questa sera e volevo però ringraziare prima di tutto Daniela Bruno, Lucia Borromeo del FAI del Fondo Ambiente Italiano e Letizia Castellini e Ferruccio Lupi della Fondazione Piero Portaluppi di Milano perché come sempre sono stati molto generosi nel concedermi l'utilizzo di molti dei materiali che vedremo stasera. Io direi di iniziare subito questa visita che in realtà vedrete, utilizzerà la villa non solo come protagonista di questo nostro virtual tour ma anche come un elemento attorno al quale si catalizzeranno altre storie che chiaramente concorreranno alla sua progettazione, alla sua formazione ma che metteranno in, diciamo così ci permetteranno di fare delle osservazioni che esulano anche dalla semplice storia della villa. Iniziamo subito con il, col luogo, col dove, dove sorge Villanecchi. Villanecchi si attesta su via Mozart in una zona di Milano che qui vediamo in due mappe, una del 1814 nel quale si vedono le ville di Delizia, le ortaglie che arrivavano fino alla cerchia dei bastioni, si vedono il palazzo Serbelloni, il palazzo Cicogna e l'area, diciamo così, sul retro di questi edifici che era occupata da questi giardini che in seguito alle lottizzazioni maturate tra i due piani milanesi, il piano Beruto del 1889, il piano Pavia Masera del 1912, lottizzeranno questa zona e qui vediamo appunto tracciata, spero che si veda il cursore sulle immagini, vediamo tracciata la via che poi sarà via Mozart. A questo punto però entra in scena, prima di Portaluppi, un altro protagonista di questa vicenda, che è un architetto nato a Mantova, ma trasferitosi a Milano, Aldo Andreani, un giovane architetto molto ambizioso di avere un ruolo all'interno del dibattito dell'architettura milanese e che si fa un progetto di lottizzazione del giardino sulla busca, cioè il giardino sul retro di Palazzo Cerbelloni. Ed è una lottizzazione abbastanza, non è usuale perché non cerca di sfruttare al massimo l'area, cerca anzi di preservare la parte centrale del giardino sulla busca. Qui vediamo appunto il progetto di Andreani e una serie di immagini, il disegno è stato fatto da Andreani intorno al 1924, di quest'area. Andreani riuscirà a iniziare questo progetto di lottizzazione in cui parteciperà anche come imprenditore e questa è una delle immagini, questa è più tarda, con cui Andreani rappresenta l'area. Vedete che viene preservata la parte più antica del giardino, viene lasciata questo grande biciclo attorno al quale una serie di nuovi edifici digradanti verso il centro del giardino costituiscono un nuovo quartiere. Qui vediamo molto bene l'immagine di Andreani, questa appunto è la via Serbelloni, questa è la via Mozart, questo è il palazzo Serbelloni, questo è il centro del giardino preservato da Andreani e questa è questa sorta di lacerto, di nucleo, diciamo così, una specie di piano di lottizzazione nel quale Andreani rivede le suggestioni della Roma barocca nel quale lui ha trascorso il 1910 per partecipare all'esposizione del 1911 e fra l'altro realizzando poi degli edifici nei quali troviamo l'eco della grande tradizione barocca da Michelangelo a Borromini e proprio quando è in fase di costruzione, sono in fase di costruzione i due suoi principali edifici, cioè il palazzo di Serbelloni 10 che vedete in questa immagine di cantiere e successivamente il palazzo figlia, quello che invece si attesta su via Mozart, entrano in scena altri due protagonisti di questa storia che sono Gigina e Angelo Campiglio e Nedda Necchi che è la sorella di Gigina Necchi. Gigina e Angelo Campiglio si sono sposati, sono pavesi, le due sorelle sono le rampolle di un'importante dinastia ed industriali, producono ghise smaltate, macchine da cucire, sono molto note le macchine da cucire Necchi e decidono di trasferirsi da Pavia a Milano e si trovano a stare nel quartiere appena lottizzato dall'impresa andreanesca che nel frattempo però è fallita. Praticamente i due edifici che avete visto e un'altra villa urbana saranno gli unici episodi realizzati da Andreani, tra l'altro come vedete nell'immagine di sinistra Palazzo Figlia ultimato nel 1932, è un bizzarro edificio in cui Andreani sincretizza una serie di suggestioni che arrivano dall'architettura borromignana, dal Parlamento di Mattoni e di particolare Michelangeleschi fino a delle influenze che guardano oltreoceano a certe maniere di raito, di salvo. E vedete che sul palazzo c'è questo grande cartello che ho scritto qui Affittasi Vennisi. Bene, Gigina Necchi e Angelo Campiglio e Denda Necchi decidono però di non acquistare un'area già edificata nella lottizzazione ma di acquisire una delle aree che era rimasta libera e progettare un nuovo edificio. Un nuovo edificio per cui viene chiamato Piero Portaluppi, quindi il protagonista di questa storia. Qui vediamo Piero Portaluppi in due immagini degli anni 30. Una lo ritrae all'interno della sua casa, la casa degli Atellani e ci rivela già qualcosa della sua personalità perché lo vediamo in una stanza che ha ideato lui in cui alle pareti possiamo osservare questa sorta di trompe l'oeil che ci fa, riproduce le pareti di una serra come se la stanza in realtà fosse una specie di giardino d'inverno e lo fa però con una modalità molto piegata a quelle che sono in quel momento anche le suggestioni che arrivano dalle coda, l'esposizione internazionale d'arte decorative del 25, ma anche da un gusto di Portaluppi che è in grado di riunire fermenti che arrivano da mondi molto differenti a come dire una ricerca invece di un linguaggio nuovo che spesso coniuga a una innata ironia e capacità di giocare con le immagini e i riferimenti esattamente come giocava da studente, poi lo vedremo, con i disegni con la satira. Piero Portaluppi si trova anche a ultimare uno degli edifici, l'ultimo degli edifici costruiti da Andreani che è la Villa Zanoletti che sta proprio di fronte a Villa Necchi Campiglio e proprio in quel momento inizia il progetto invece per Villa Necchi. Inizialmente vedete la prima proposta di Villa Necchi vista la composizione della committenza è pensata come una sorta di villa bifamiliare gemella e qui vedete una prima versione con due ingressi, due giardini d'inverno, una composizione volumetrica molto compatta che poi coinciderà con quella realizzata. Ma vedete anche, e qui faremo una digressione che ci fa capire meglio la personalità dell'architetto, come nel disegno ci sono i committenti che sono raffigurati quasi in maniera caricaturale sulla porta e anche un coniglio che si specchia, un gatto, un coniglio, non si riesce a capire bene che animale è, che si specchia nella piscina. Vi dicevo prima che l'ironia, la satira, era uno degli elementi con i quali Portaluppi aveva una grande confidenza. Portaluppi era un personaggio assolutamente abile dal punto di vista della gestione professionale della sua attività, era un architetto ambizioso, era nato nel 1888, si era laureato nel 1910 in architettura, era diventato subito assistente di Gaetano Moretti, nel 1913 aveva sposato Diabaglia, che era la nipote del senatore Ettore Conti, da cui poi Diabaglia sarà adottata negli anni successivi ed era quindi entrato nella, apparteneva alla grande borghesia milanese. Allo stesso tempo, come vi dicevo, fin dall'epoca dell'università era attratto dal disegno, dalla satira, aveva realizzato molte vignette che erano state pubblicate dal Babau, dal Guarimmeschino, cioè una serie di testate satiriche dell'epoca e spesso utilizzava lo strumento della satira, come in questo caso, per, so, illustrare un problema, per esempio questo era quello dell'attraversamento pedonale nelle vie milanesi, che ormai erano sempre più percorse dal traffico, vedete questa specie di doppia puleggia con i passanti incollati con questa colla e staccati una volta attraversata la strada. Anche questa sua vena satirica spesso si consumava anche su altre successioni, quella del controllo degli elementi. Qui vediamo una pagina di una sorta di suo diario visuale del 1906 in cui, vedete, riesce a quantificare le spese che a seconda della necessità di tutto l'anno. Quindi questo ci fa capire come questo architetto fosse quindi sicuramente determinato, sicuramente avesse una grande dimestichezza col potere professionale accademico, ma allo stesso tempo non fosse un personaggio protocollare, guardasse sempre con uno sguardo ironico, sorgnone, una serie di elementi, anche della sua attività, della vita, della cultura architettonica. Per esempio, questo spesso viene pubblicato o citato come se fosse un reale progetto di lottizzazione, questo progetto di lottizzazione che si chiama Alla Banwell, era in realtà una sorta di monitor di portaluppi rispetto a un'idea quantitativa dell'urbanistica, dei piani urbani, tanto che Alla Banwell, letto al contrario, rivela lei una balla, quindi una cosa che non aveva in realtà una reale vocazione a essere un piano. È famosissimo poi il progetto, che in realtà non è un progetto, SKN, questo grande grattacielo sorretto, vedete, da quattro grattacieli più piccoli, qui siamo nel 1920, quindi negli anni precedenti alla committenza di Villanechi. Questo grattacielo in realtà non era un progetto reale, era un gioco, un monito anche questo. Portaluppi era appassionato anche di enigmistica, vedete quella specie di rebus, di studio per un rebus che abbiamo alla sinistra. SKNE in realtà, come ha ipotizzato, scoperto Jeffrey Schnapp in occasione della mostra che si tenne su Portaluppi parecchi anni fa, SKNE è un acrostico ed è da leggere come scappane, quindi da un luogo del genere, da una visione urbana, da una megalopoli di questo tipo, tu scappane, perché non è il luogo dove è possibile condurre una vita, perlomeno questo era il suo punto di vista da appunto cittadino milanese, legato quindi a un'idea stratificata e storica della città. Tra l'altro è curioso perché vedete che nel progetto SKNE Portaluppi riesce a sostanzialmente trasformare in una sorta di grattacielo un meccanismo compositivo stupefacente perché c'è l'elemento centrale sorretto da quattro sostegni che era lo stesso utilizzato da Bernini nella fontana dei fiumi appunto a Roma, Piazza Navona, col dispositivo appunto dello stupore che doveva generare questo sollevamento di questa massa da una parte il grattacielo e dall'altra roberisco. Questo per farvi capire chi è l'architetto che i committenti scelgono non tanto per una particolare sintonia con l'architetto ma perché in quel momento Portaluppi è davvero l'architetto della borghesia milanese. Qui vediamo un altro suo progetto per la sistemazione della casa degli Attellani dove vivrà lui stesso e dove viveva Ettore Conti. La casa si diceva sorgeva sulle vigne di Leonardo ed ecco che nella tavola finale acquarellata Portaluppi disegna Leonardo come un passante che si affaccia alla sua tavola di progetto. E questa verve di Portaluppi e questa sua passione per il disegno saranno anche poi condurranno altri suoi probabilmente suoi allievi, suggestioneranno altri suoi allievi. È allievo di Portaluppi negli anni 30, Sol Steinberg, il giovane architetto rumeno, si laurea al Politecnico e è allievo di Portaluppi e sicuramente diciamo l'attività, la capacità prefigurativa delle vignette di Portaluppi avranno forse una influenza sul giovanissimo Steinberg che appunto come dicevo si diplomerà nel 1940 e rimarrà poi molto legato ai suoi compagni di corso come i VPR che ritorneranno poi in questo nostro giro virtuale. Questo è il progetto poi definitivo di Villanecchi. Portaluppi decide, probabilmente la committenza decide di accorpare il nucleo familiare in un unico edificio e Portaluppi realizza questo edificio molto composto, molto quieto dal punto di vista della volumetria e anche dal punto di vista del linguaggio che utilizza. Vediamo che compare subito il giardino d'inverno, anche qui vediamo delle figure che si apprestano a entrare da questo grande ingresso monumentale e forse è considerato il richiesto della committenza per un edificio che fosse anche il teatro, un meccanismo della loro vita sociale, della loro vita mondana, forse ironicamente Portaluppi pensa quindi a questo ingresso che sembra quello di un grande hotel più che quello di una casa privata. Una casa privata che però doveva essere quindi come vi dicevo il meccanismo per la vita sociale mondana di questa famiglia e che quindi doveva essere attentamente studiata dividendo le funzioni, i percorsi, un po' come quello che si vede in Gosford Park, il film di Altman in cui questa casa ottocentesca è assolutamente pensata per essere appunto il dispositivo della vita sociale della famiglia che la occupa. Qui vediamo l'alternanza di fotografie d'epoca realizzate da Paoletti che era il fotografo che lavorava con Portaluppi e immortalava tutte le sue opere appena finite, tanto che vedete il simbolo dell'archivio di Portaluppi, la casa con il lungo camino che segnava appunto le coppie del lavoro di Paoletti che erano poi trattenute dallo studio. Alterneremo quindi immagini d'epoca, immagini dello stato attuale che ci fanno capire come l'edificio che noi vediamo coincida, è assolutamente conservato e poi vedremo ci sono stati dei cambiamenti ma coincide esattamente con l'immagine, sono solo cresciute le piante come vedete, con l'immagine che abbiamo visto nelle foto d'epoca. Quindi questa villa che parla un linguaggio sobrio, quieto, l'utilizzo di materiali particolarmente preziosi con il quale viene sublimata un estro decorativo che negli anni precedenti avrebbe portato Portaluppi probabilmente a delle soluzioni differenti. Qui vediamo sempre la villa in una visione d'epoca diurna e notturna invece allo stato attuale e qui la visione passando da quello che era l'accesso che portava al campo da tennis e che oggi invece porta alla caffetteria e qui questo grande ingresso quasi come dicevo quello di un grande albergo. Sullo sfondo vedete il palazzo figlia di Andreani che campeggia dall'altra parte della via. Che stile utilizza Portaluppi per realizzare questo edificio? Questa è una domanda che mi sento spesso chiedere e c'è una specie di a volte necessità frenetica di applicare delle etichette. Io sono abbastanza refrattario a questa modalità ma per farvi capire che cos'è questa villa e come Portaluppi sta in realtà in equilibrio tra delle pulsioni differenti. Vi volevo far vedere questi due edifici molto differenti tra di loro appunto. Uno è Armando Brasini del palazzo dell'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro le Infortuni sul Lavoro a Roma che è concluso nel 32 e l'altra la casa di Giuseppe Terrani e Pietro Lingeri Casa Rustici a Milano che è realizzata tra il 33 e il 35 e comunque si tratta di edifici quasi coeli. L'uno Brasini chiaramente è un architetto contemporaneo ma parla un linguaggio che si ispira in una maniera esplicita agli elementi storicisti che sono poi impaginati secondo una sensibilità che deroga diciamo così da quella del codice classicista ma sicuramente come vedete gli etimi che utilizza sono ascrivibili esplicitamente rimandano a un linguaggio storicista mentre invece Terrani e Lingeri sono degli avanguardisti e nel loro edificio volutamente vogliono discostarsi dalla ripresa di questi elementi storici e parlare un linguaggio nuovo che spesso viene chiamato international style, razionalismo eccetera ma che rappresenta diciamo così l'estremo opposto rispetto all'atteggiamento di Brasini. Ecco, Portaluppi si colloca esattamente nel mezzo e tenta di mediare da una parte le istanze della modernità e dall'altra il ricordo comunque della tradizione di una classicità e lo fa appunto in un equilibrio spesso ravvivato come vi dicevo e come vedremo anche da citazioni che vanno in una direzione piuttosto che in un'altra ma che però convivono in una maniera assolutamente convincente. Del resto non era la prima volta che si cimentava con un rapporto con un linguaggio modernista, ricordiamo che proprio con i BBPR che abbiamo citato prima, con i compagni di corso di Steinberg, proprio tra il 32 e il 33 aveva realizzato una delle case modello per la triennale, la casa per il sabato degli sposi appunto che complice anche il lavoro fatto in collaborazione con i giovani allievi di cui non censurava le vocazioni avanguardiste era rispetto alla sua abituale modalità compositiva un salto in avanti nel quale però manteneva ferma la sua per esempio ossessione per l'utilizzo di materiali preziosi e per utilizzare proprio la grana, la texture, la preziosità di questi materiali come un elemento saliente del progetto. Per esempio in questo edificio vedete c'era questa scala chiocciola realizzata da elementi triangolari di massello di questo marmo di candoglia lo stesso utilizzato per il Duomo che stava al centro dello spazio di soggiorno affacciato sull'esterno della villa e che verrà rimontata una volta demolite le case dimostrative alla triennale in un'altra opera portaluppiana molto vicina al Politecnico fra l'altro la casa Corbellini Wasserman in via Lombardia del 1934-1936 dove la possiamo ammirare ancora oggi. Torniamo alla villa, Villa Necchi. Come vi dicevo un dispositivo che doveva permettere la vita sociale, rituale sociale mondano della famiglia Necchi Campiglio completamente separate le aree di servizio sia all'interno della villa sia all'interno della conformazione della proprietà. La portineria si affacciava su via Mozart, un tunnel sotterraneo poteva collegare la portineria alla villa e anche all'interno della villa, come vedremo, i quartieri di servizio saranno ben distinti da quelli invece degli ambienti legati appunto alla vita privata e alla vita sociale dei committenti. Qui vediamo le immagini della portineria su via Mozart, molto, come dicevo, severa, reticente, come del resto è anche l'aspetto della villa, molto diversa quindi dall'edificio prospiciente di Andrani. Qui il fianco sul tennis che era bruscamente concluso probabilmente in un primo momento, Portaluppi aveva pensato anche a una costruzione in cortina o alla possibilità di ampliare questo edificio. Poi vediamo appunto, ritorniamo al progetto definitivo, questo è un altro dei disegni sempre impreziosito dalle caricature portaluppiane, vediamo anche campeggiare una piccola stella sulla sacciata, in realtà era un omaggio, un'opera precedente di Portaluppi, il planetario, ultimato nel 30, poco distante da Villa Necchi Campiglio, nei giardini di Porta Venezia, e anche qui capiamo bene come la ripresa di un edificio, è chiaro che è un omaggio al Pantheon e alla classicità, il planetario, era stato declinato da Portaluppi solo pochi anni prima, ma con un linguaggio molto diverso da quello della villa e molto più incline a mostrare, diciamo, la componente classica, velata anche in questo caso da una sorta di ironia. Sulla superficie del planetario erano disseminate in ceppo, vedete, erano disseminate, incastonate delle piccole stelle in marmo, così come la finestra, in realtà, di uno dei bagni, della parte di servizio di uno dei bagni della villa, che avrebbe, in un'altra conformazione, avrebbe rotto la simmetria, la composizione della facciata, era risolta in questa maniera, che rimandava anche a un'opera precedente. La vedete, campeggia in questo punto, sulla fotografia della facciata dell'ingresso. Scusate, andiamo avanti, sempre alcune immagini d'epoca dell'ingresso. La pianta, come vedete, l'interno aveva una distribuzione molto chiara, molto intelligibile, appena avvalcata la soglia. Una grande hall con una scala che portava al piano superiore, un'infilata che riprendeva anche quella che si poteva trovare nelle case aristocratiche, dei grandi ambienti di soggiorno, quindi la biblioteca è un grande soggiorno, il giardino d'inverno, la veranda su cui poi torneremo, il fumoir, la sala da pranzo, e completamente separati, l'office collegato alla cucina che stava al piano inferiore, e un guardaroba con la scala di servizio completamente indipendente da quella principale, il piccolo studio di Angelo Campiglio. Ma varchiamo appunto la soglia, qui vediamo una fotografia dell'epoca, e qui invece vediamo una fotografia della villa oggi. Sono cambiate delle cose, adesso vedremo cosa. Tanto che qui notiamo la presenza di questo grande quadro, che è un capolavoro di Mario Sironi, qui sempre una foto dell'epoca, e la lascio qualche secondo così potete osservarla, e una foto attuale. Come vedete, la villa muta, muta per dei motivi, alcuni più evidenti, la presenza di queste opere d'arte che avete visto, che sono dovute a un incontro molto fortunato, una sorta di epifania. La villa è stata, rimane di proprietà della famiglia Necchi Campiglio, fino al 2001, quando muore Gigina Necchi, che lascia la villa al FAI, per trasformarla in una casa museo. Nello stesso periodo, Claudio Gianferrari, che è stato un importante gallerista, collezionista e storica dell'arte, decide di lasciare i capolavori della sua collezione a Villa Necchi. Fra l'altro, Claudio Gianferrari è una collezionista del Novecento, quindi di una tendenza pittorica, di un movimento che era perfettamente ambientato in Villa Necchi. Gli artisti del Novecento, che era stato ideato, che vedeva tra i suoi numi, Margherita Sarfatti, cercavano proprio di coniugare, da una parte, l'eredità della classicità, e dall'altra una modalità espressiva, che era memore delle vanguardie. Quindi, quella specie di calibratura del linguaggio, che di fatto aveva utilizzato lo stesso Portaluppi, Portaluppi, per realizzare la villa. Qui vediamo Claudio Gianferrari nella sua casa milanese, prima di privarsi delle opere, uno, un ritratto femminile di Funi nel 1926, e questo, come vi dicevo, la famiglia di Mario Sironi, che fu, insieme ad Arturo Martini, il principale artista di questo movimento, che vi dicevo che si chiamava Novecento, il Novecento, spesso anche chiamato Novecento milanese, perché a Milano nasce. E anche in questo caso si capisce bene l'unione tra un rimando a un'iconografia classica, e dall'altro la rivisitazione, il modo con cui sono dipinte queste figure, ci fa capire qual è stata, anche per Sironi, l'esperienza degli avanguardi. Il quadro, tra l'altro, apparteneva a un altro importante architetto italiano, Marcello Piacentini, che fu il vero ex-macchina delle politiche architettoniche tra le due guerre, e appunto era posseduto da Piacentini e stava, come si vede in questa fotografia, in una villa costruita esattamente negli stessi anni di Villa Necchi, che era la Villa 410, la villa che Piacentini aveva costruito per se stesso, alla Camilluccia. Torniamo a Villa Necchi. Abbiamo visto quindi che un cambiamento è dovuto alla presenza delle opere d'arte all'interno della villa. Vi prego di osservare in questo caso anche il soffitto, che poi è stato mantenuto, con queste losanghe, altro elemento tipico della tensione compositiva e anche della logica dell'immaginario decorativo di Portaluppi. E come vi dicevo, alcune le differenze sono dovute alla presenza delle opere d'arte, ma non solo. Continuiamo in questa sorta, e qui vediamo il grande soggiorno in alcune foto d'epoca, e così come oggi compare il busto di Arturo Martini sulla scrivania, che lo vedete in questo punto. E poi il grande soggiorno in una fotografia d'epoca, e così come oggi. Capite che oltre alla presenza di opere d'arte, qui abbiamo un bellissimo quadro di Piero Marussi, che è questo ludo maschile, che vedete appunto sul divano, e poi qui non li vedete, ci sono due opere di Giorgio Morandi sulle altre pareti, insomma, e il quadro di funi che avete visto sulla parete opposta. Avete visto però che cambia lo stile con cui questo edificio è arredato, ma cambiano anche, vedete, prima le finestre hanno delle tende molto sopri, e poi delle mantovane molto elaborate. Entra in gioco, entra in scena un altro protagonista di questa vicenda, che è Tommaso Buzzi, un architetto che lavorava negli anni venti con Ponti ad Omus, e che mentre Ponti, diciamo così, rimarcerà sempre di più verso, come porta lupi, ma in una maniera diversa, verso una modernità, verso, come dire, il rinnovamento di un gusto, Buzzi si ripiegherà invece sulla ripresa di una serie di elementi più propriamente, più esplicitamente tradizionali, convenzionali. Probabilmente la committenza, anzi sicuramente la committenza borghesia milanese, che era più che illuminata, era disinvolta e cosmopolita, e con la stessa disinvoltura di cui si poteva servire di un architetto più modernista per realizzare alcune cose, si serviva di un architetto più tradizionalista, che forse la riportava nell'ambito di un gusto più condiviso, più anche simile a quello dell'aristocrazia, che in un qualche modo voleva emulare. E quindi si rivolge a Buzzi, che subito dopo la conclusione dei lavori, già a partire dal 1938, antichizza, se così si può dire, tutta una serie di particolari della villa. Rimane la forma, rimane il soggetto, rimane l'organismo portaluppiano, riconoscibilissimo, a cui si sommano però gli interventi di Buzzi. Qui vediamo sempre delle immagini d'epoca, il giardino d'inverno, il giardino d'inverno che vedete sempre in un'immagine d'epoca, e sempre in una foto attuale. L'assenza delle tende rivela molto di più la, diciamo così, ascendenza e forse anche l'ironia con cui Portaluppi guarda alcuni elementi veicolati in quel momento dalle avanguardie, l'idea della casa come un luogo costruito da recinto, da grandi vetrate che utilizzavano una tecnologia industriale, il ferro e il vetro. non a caso questo giardino d'inverno è una sorta forse di omaggio sempre ironico portaluppiano a quell'immaginario che per esempio aveva condotto Mies a realizzare la Tugendath House, che qui vedete sulla copertina della mostra, la celeberrima mostra del 1932 al MoMA di New York. E Portaluppi conosceva bene l'opera di Mies se non altro, ma non solo perché in dubbio alla sua curiosità anche rispetto a una cultura vanguardista che poteva non coincidere con il suo estro poi compositivo ma perché tutte e due si erano ritrovate a realizzare rispettivamente il padiglione italiano e tedesco alla esposizione internazionale di Barcellona nel 1929. E l'occhio prensile di Portaluppi e la sua verve ironica sicuramente hanno colto da una parte alcune soluzioni di Mies che l'avevano anche sedotto tanto che qui vedete in uno dei bagni di servizio per le camere di servizio di Villanecchi lui utilizza una partizione tra un ambiente e l'altro costituita da una unica massa lastra di marmo nero e con delle tende che servono per come dire rendere più frammentare lo spazio interno esattamente come Mies aveva fatto nella casa Tugendat quindi la capacità come dicevo di Portaluppi di cogliere col suo occhio ripeto prensile anche suggestioni in quegli quelle temperie culturali apparentemente lontane dalla sua cifra espressiva ma sicuramente conosciute dalla sua grande curiosità intellettuale sempre alcune immagini degli interni della villa com'erano e com'è altro capolavoro di Arturo Martini L'amante morta un gesso del 1921 il titolo l'ude l'amante che è abbandonata muore interiormente è uno dei capolavori della stagione creativa di Martini che sembra trovarsi qua da sempre si può dire che abbia trovato nella collocazione di Villa Necchi il suo habitat naturale il fumoir dove invece vedremo che Boots interviene in una maniera molto vistosa realizzando questo grande cammino vedete al posto del cammino molto più lineare quasi non si nota in questa immagine che aveva realizzato Piero Portaluppi e la sala da pranzo così come era stata concepita da Portaluppi con gli arredi realizzati da Portaluppi a rivestimento in pergamena che imitava questa sorta di paramento lapideo realizzato in pergamena e come è trasformata da Buzzi vedete Buzzi tiene rivestimento prezioso di Portaluppi ma antichizza diciamo così gli arredi seguendo i desideri di un comfort più se vogliamo convenzionale che la committenza chiede rispetto invece alla soluzione che era stata di Portaluppi gli ambienti di servizio che sono rimasti pressoché identici in cui Portaluppi usa linoleum usa il legno usa tutte le ci sono i passavivande ci sono come dire tutti gli elementi del comfort che sono però celati alla vista e fanno parte del meccanismo di funzionamento della villa vediamo una parte dell'office la traguardiamo dall'altra parte e poi il piccolo vestibolo dove compaiono altre due sculture che fanno parte della una della dell'ascito di Claudio Gianferrari la canzone marinara e una degli eredi di Timo Portolotti che è l'autore di entrambe e che era il nonno di Claudio Gianferrari che è stato un artista uno scultore sodale di funi di Marusi e appunto per questo è presente all'interno della raccolta di Claudio Gianferrari poi saliamo al piano superiore lo facciamo con questa scala dove sulla ringhiera irrompe un altro motivo tipico di Portaluppi che è quello della greca quindi un elemento preso dalla decorazione più tradizionale classica che però Portaluppi reinterpreta in una maniera assolutamente personale qui vediamo una specie di abaco di queste modalità di intreccio di utilizzo della greca vi faccio notare anche i nomi gerliade perché viene ripresa chiaramente dalla tessitura della gerla sing sing perché ricorda le grate di una cella zicche zacche perché c'è questa specie di gioco appunto di scansioni ellenica perché è quella più simile alla greca classica concretismo con i vari delle varie campionature di marmi mille righe con mille righe di colori e di dimensioni diverse questo è il tema della greca della linea rante sempre come ha definita Jeffrey Schnapp campeggiava già in edifici e in progetti precedenti di Portaluppi era anche nel padiglione italiano all'esposizione di Barcellona sul soffitto esattamente come lo si ritrova nel soffitto della faggianaia la casa per il golf club di Monza e degli uffici Stipel invece del 1928 vedete che il soffitto è risolto con questo elemento zigzagante della res e anche la disinvoltura con cui questi motivi potevano tappezzare le architetture di Portaluppi e qui vediamo altri tre progetti in realtà anche in questo caso come SKNE più divertissimo anche un progetto e come cambia diciamo così il carattere dell'edificio a seconda della texture che Portaluppi anticipando peraltro alcune caratteristiche che si ritrovano anche nell'architettura attuale come cambia appunto la percezione dell'edificio a seconda di come cambia la pelle che lo riveste da questa linea errante della prima soluzione a questi invece elementi all'osange delle altre due sempre la scala che ci conduce al piano superiore che si distribuisce con due ali speculari le due parti del nucleo familiare come abbiamo visto non vivono in luoghi diversi vivono sotto lo stesso tetto e la parte privata di entrambi è speculare divisa da questo corridoio e qui forse Portaluppi si diverte sempre un po' sornione a giocare un altro tiro alla committenza nel senso che voi vedete dalla pianta e su questo corridoio si affacciano gli ingressi agli spogliatoi da cui si accede al bagno alle camere anche gli ingressi direttamente dei bagni ma ci sono anche una serie di armadi a muro e quando queste porte sono chiuse sono assolutamente indistinguibili cioè bisogna sapere prima quale porta aprire per entrare in uno spogliatoio in una camera da letto piuttosto che aprire un armadio muro le stanze che poi vengono come capite bene da queste immagini arredate da Tommaso Buzzi una stanza per gli ospiti che è stata poi in realtà completamente smantellata perché nella villa la villa accoglie oltre all'ascito di Claudio Gianferrari anche quello di Alighiero De Miglietta De Micheli che era una collezione di opere d'arte oggetti arredi settecenteschi quindi una stanza della villa è stata completamente trasfigurata mutata da Piero Castellini per ospitare questa collezione e un'altra camera da letto per gli ospiti occupa invece un'altra un'altra diciamo l'ascito molto importante di disegni questa volta che è la collezione di Guido Sforni e qui riconoscete l'armadio che invece abbiamo visto campeggiava in origine nell'altra stanza degli ospiti e una serie di arredi realizzati probabilmente da Porta Luppi e una serie di disegni di Modigliani e qui vediamo sempre su arredi realizzati da Porta Luppi per gli alloggi di servizio invece un'opera di Mario Sironi la donna inginocchiata nel 1919 bagni fraonici la cui preziosità non era data tanto dalle decorazioni ma dalla suntuosità e dalla generosità dello spazio e dalla qualità dei materiali elemento questo del bagno così prezioso che Porta Luppi fra l'altro conferma in altre sue opere come ad esempio questo non è è identico nel suo funzionamento quello della Villa Necchima e quello dell'appartamento padronale della casa Corbellini Wasserman realizzato con questo marmo che Porta Luppi utilizza tantissimo all'epoca anche l'atrio della sua abitazione attualmente che ospita la fondazione in via Morozzo della Rocca rivestito con questo materiale preziosissimo che è il verde di Chalant un marmo che oggi da cui vena è nata esaurita quindi non è più utilizzabile e come vi dicevo è la qualità del materiale che sublima la diciamo così conferisce questo carattere opulente prezioso a una stanza che come vedete non ha altri elementi decorativi che la contraddistinguono e questo è appunto lo stesso materiale utilizzato da Porta Luppi sul la buca delle lettere il campanello del suo studio in via Morozzo della Rocca e il bagno di servizio della guardarubiera stanza che esiste ancora ed è l'elemento dove si chiude la visita guidata a Villanecchi perché era la stanza occupata da Claudio Giazzerrari vediamo ancora i suoi abiti di miacche che spuntano all'armadio quando aveva diciamo così riscuoteva la condizione che lei aveva posto al Fai per dare la sua collezione che finché lei fosse stata viva quando poteva diciamo così decidere di passare una notte insieme alle sue opere quindi dormire nuovamente dormire all'interno della villa appunto della stanza della guardarubiera e voglio concludere questa visita molto sintetica mi scuso per ogni elemento su cui ci siamo soffermati potevamo passare molto più tempo ma volevo raccogliere tutti questi elementi in un'unica dare diciamo così con un unico sguardo visioni diverse dello stesso oggetto con una citazione che arriva da il cortegiano di Baldassare Castiglione che mi sembra si adatti perfettamente allo spirito con cui Portaluppi non solo progetta questo edificio ma appunto riesce a essere sincretico nelle sue architetture di atteggiamenti citazioni elementi che arrivano da contesti molto diversi usare in ogni cosa una certa sprezzatura che nasconda l'arte e dimostri ciò che si fa e dice venir fatto senza fatica e quasi senza pensarlo e vi ringrazio di avermi seguito è un po' bizzarro per me parlare di fronte a una telecamera ma spero di essere riuscito a farvi partecipare a questa a questa visita è un po' Grazie a tutti